Paolo Aliata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole per raccontare il suo nuovo libro. Ci eravamo trovati qua con il libro Dove Dio respira di nascosto, tra le pagine dei grandi classici. E poi ci siamo ritrovati qui nel posto delle parole con C'era come un fuoco ardente, la forza dei sentimenti tra Vangelo e letteratura. Ed oggi siamo qui per raccontare un sentiero per la gioia, passeggiate letterarie. Beh, devo dire che la parola letteratura in questi tre libri è una parola che accompagna la scrittura, ma vedremo come accompagna anche la vita di Don Paolo Aliata, che leggo nelle svolte di copertine, nato a Milano, laureato in lettere classiche all'Università di Milano, ordinato sacerdote dal cardinale Carlo Maria Martini, attualmente responsabile dell'ufficio per l'apostolato biblico della diocesi di Milano. Nella predicazione e nelle passeggiate letterarie cerca di raccontare il mistero cristiano anche attraverso pagine di letteratura non religiosa e il riferimento al cinema. Ora, Paolo Aliata, io vorrei proprio soffermarmi su un aspetto prima di entrare, o per entrare in un altro modo, verso il sentiero della gioia. Ecco, quando leggo nella predicazione, nelle passeggiate letterarie, Don Paolo Aliata cerca di raccontare il mistero cristiano attraverso le pagine di letteratura non religiosa. Si sente un po' solo a fare questa narrazione del Vangelo utilizzando anche le pagine non religiose? Un po' solo? Ma no, no. Diciamo che io cerco di fare quello che la Chiesa fa da venti secoli, no? Cioè, rispondere alla domanda come faccio a farmi capire quello che mi sta a cuore, com'è che lo racconto di modo che chi ho davanti possa entrare in ciò che mi sta a cuore, possa comprendermi. E quindi il tentativo è di passeggiare, appunto, in testi narrativi o filmici che parlano oggi alle persone del nostro tempo e imparare, e imparare da lì, quali sono le immagini, le visioni, i dettagli che parlano al cuore delle persone. E il presupposto è questo, appunto, l'immagine che mi piace, no? Che Dio respira lì nascosto, sì, sì, è il giocherellone, sì, si nasconde e però si, come dire, sollecita ad andare a cercarlo anche e soprattutto lì dove non te l'aspecti, no? Però io sono una persona molto distratta. Però non penso di avere mai ascoltato in una predica parlare di un certo Gatsby, per esempio, no? Ed è per questo che le ponevo la domanda che le ho posto se si sente un po' solo, perché spesse volte, nello spazio, è uno spazio straordinario per il sacerdote quando è nel momento della predica, spesse volte succede che cosa, e spero veramente di sbagliarmi, me lo dica se è uno sbaglio, che noi stiamo ad ascoltare le letture, che sono dei passi di letteratura straordinaria, oltretutto. Poi arriva il momento della predica e tutto cade, mi spiego. Quella pagina meravigliosa, no? Che abbiamo ascoltato, viene ripetuta in una maniera, ahimè, non propriamente, non propriamente nel giusto registro per noi contemporanei, che forse a volte mi chiedo, sarebbe bello lasciare veramente che quella parola si sedimentasse, che ne so, in un silenzio e basta. Che cosa ne pensa? Sono, ahimè, sono consapevole, sono d'accordo, e questa è l'enorme responsabilità che abbiamo e che è cantata tanto impegnativa, no? E fa parte anche del suo ufficio biblico della Diocese di Milano, anche del suo lavoro, no? Sì, 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 sì. È tanto impegnativa e tanto affascinante, è una straordinaria sfida, appunto di cercare di accompagnare la risonanza di quella parola, senza nasconderla, senza umiliarla, senza calpestarla, senza banalizzarla. E appunto per questo mi piace spaziare al di fuori degli stretti confini del linguaggio ordinario, proprio perché, anche per rispondere alla prima domanda, se mi sento solo, io in realtà questo modo di fare mi si è acceso dentro, leggendo un altro autore, questo Timothy Radcliffe, che è un domenicano inglese, maestro, in questa curiosità di andare a scandagliare la letteratura classica e contemporanea e la filmografia per parlare il mistero che vogliamo raccontare. Perché, appunto, il presupposto è questo, che Dio è più grande del nostro linguaggio religioso e lì dove c'è un uomo o una donna, saggi, sapienti, che esplorano il mistero delle vite, della morte, dell'amore, della disperazione, lì dove il cuore dell'uomo parla in profondità, lì Dio sta parlando. E quindi c'è da affrontare la grande avventura della curiosità, guardare con simpatia a ciò che il mondo racconta di se stesso. E la parola curiosità è la parola che ci deve, per certi aspetti, travolgere, perché è l'arma più straordinaria per ogni cosa. Anche quando si prende un libro, come questo pubblicato dalla Casa Etrice, c'è in dialogo la curiosità importante, un sentiero per la gioia, passeggiate letterarie. Cominciamo la nostra breve passeggiata in una maniera straordinariamente bella, perché chi è che non è rimasto affascinato dal Cavaliere Inesistente, dal Barone Rampante, dal Visconte di Mezzato? Ecco, sono figure straordinarie che lei pone in apertura del suo libro Un sentiero per la gioia sotto una domanda. Vuoi esistere? E devo dire che sono andato a riprendermi uno di questi libri per rivedere, rileggere un po' la figura di Agilulfo che un po' mi era passata, un po' mi era passata inosservata. E quindi la domanda vuoi esistere altro che se entra in queste pagine, ma esce da queste pagine ed entra nella nostra vita, perché poi è l'invito che lei ci fa ad ogni pagina, Paolo Agliata. Questo è il nostro, ovviamente il nostro desiderio fondamentale, no? Di esistere meglio, esistere un po' di più, esistere integrando i pezzi di non esistenza che ci trasciniamo dentro. Calvino in un'intervista diceva che il suo desiderio era di scrivere una storia in cui l'esserci e il non esserci lottassero all'interno della stessa persona. Lo trovo meraviglioso, questa è la nostra condizione di vita. Quindi il nostro desiderio è di destarci a esistere veramente, esistere fino in fondo. C'è quell'immagine pulminante di Agilulfo, il cavaliere inesistente, no? Questa corazza vuota che esiste per forza di volontà, che all'inizio del racconto di Calvino, quando scende la sera nell'accampamento appena passato in rassegna da Carlo Magno, isolato da tutti gli altri che invece sono questi buzzurri, che hanno la loro corporeità debordante e gestita in qualche modo. Questo qui invece è un poverino e fa questo gesto di stringersi le braccia, che è un modo per dire, ma io com'è che esisto? Ma io esisto davvero. Ed è lo stesso gesto che il visconte Medardo di Terralba, all'inizio del visconte di Mezzato, esattamente lo stesso gesto che anche lui compie. La sera prima della prima battaglia, in cui verrà spaccato in due da un colpo di cannone, anche lui si stringe le braccia, come a dire, ma io sono tutto intero e tutto il racconto sarà il racconto del suo desiderio, tentativo forse, insomma, di ricomporre un'unità. Ecco, noi siamo molto frammentati, abbiamo sempre un po' bisogno di rassicurazione sul fatto che siamo al mondo, che siamo esistenti. Questo è il travaglio di Agilulfo, il cavaliere inesistente, che ha bisogno di un contatto con le cose e con le persone per sapere di essere al mondo. In tempi in cui abbiamo attraversato questo isolamento forzato da un anno e mezzo, questo è un tema che riemerge fortissimo. Abbiamo bisogno di essere rassicurati sul fatto che ci siamo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci chiami per nome, che ci guardi negli occhi. Ecco, questo è un po' il tema iniziale. Qualcuno che ci chiami per nome, però scoprire il nome in questa citazione che ho avuto il piacere di rileggere, perché quante volte vorrei leggere questa frase, però il nome lo scopriamo al termine del nostro viaggio. Che meraviglia, vero? Che meraviglia, no? Il mio nome al termine del mio viaggio. È una delle ultime battute di Agilulfo, no? Perché è così, questa è la, come dire, una visione sapienziale della vita, e ci dice che la nostra identità profonda che spinge per emergere per tutta la vita, beh, nella Bibbia c'è questa formidabile immagine nell'Apocalisse che alla fine il nome ci sarà dato dal vivente, colui che è il vivente, il risorto, che ci consegnerà questa pietruzza bianca che nell'Apocalisse è l'immagine della risurrezione, quindi della vita piena, che si dispiega in tutta la sua potenza. Su quella pietruzza sarà inciso il nome di ognuno di noi che soltanto il vivente e noi stessi conosceremo. Noi portiamo dentro di noi un nome nascosto e siamo per tutta la vita come impegnati in una gravidanza, nel travaglio del parto, per far emergere il nome nascosto. Nell'esperienza dell'amore. L'esperienza dell'amore. L'amore ci permette di emergere a quel che siamo, un po' per volta, un po' per volta. In questo libro, letteratura e film si danno la mano, si attraversano, dialogano insieme per portarci a vivere veramente il mondo di oggi attraverso la parola del tempo. Anche Shakespeare in Love cercava, per tornare al nome, cercava questo nella disperazione di un uomo che ormai, un uomo innamorato, ma non poteva più scrivere, sembrava alla fine, e invece qualche cosa, qualche cosa è rinato. E poi troviamo altri personaggi, troviamo il rinnovato Scrooge, dico rinnovato perché ogni volta che si legge Scrooge, quante volte lo possiamo scoprire in modi diversi, tra i personaggi raccontati forse è quello più conosciuto. Scrooge è il secondo passo in questo sentiero ideale, verso la profondità della gioia, perché se Agilulfo ha desiderio di esistere di più, Scrooge è l'uomo che esiste ma è increcato, è congelato. Dickens lo descrive all'inizio del suo racconto di canto di Natale come un uomo glaciale che dove entra porta ghiaccio, la temperatura scende. Incatenato a se stesso. Incatenato a se stesso, inconsapevole delle sue catene. Questo è, trovo che sia una bella intuizione di Dickens, no? C'è bisogno dell'amico, l'unico amico che in qualche modo ha da lunghi anni a questa parte, e che è morto sei anni prima. L'amico che si rende presente, il fantasma di Marley, gli si rende presente per rivelargli la sua condizione di incatenato. Gli dice, bello, guarda, sei anni fa quando sono morto, tu avevi la stessa quantità di catene che avevo io allora. Beh, in questi sei anni ti sei incatenato molto di più. Non te ne rendi conto, sono qui a dirtelo. E quindi ti dico che hai bisogno di una terapia. Mi viene in mente quello che diceva Rosa Luxemburg, dice, quelli che non si muovono, non si accorgono delle loro catene. Questo è Scrooge, che è così rattrapito nella sua umanità chiusa, in cui ha rinunciato all'amore della giovana fidanzata, alle relazioni familiari, alle relazioni amicali, perché l'unica cosa che gli importa sono i soldi, il denaro. Questo gelo ha bisogno di essere scongelato. Scrooge dovrà attraversare la terribile notte che precede il Natale per poter vivere la sua primavera, per poter cominciare a sciogliersi. Ma a proposito della notte, noi in questo libro scopriamo i sentieri attraverso la letteratura, abbiamo citato Calvino, adesso Dickens, ma troviamo in questo cammino, a proposito del buio della notte, a cui poco fa lei faceva riferimento, una figura che ha dovuto attraversare il buio la notte, ed è quella di Dante, a cui noi dobbiamo giustamente fare riferimento, soprattutto in quest'anno, perché è un motivo di incontro con una parola dantesca. E come Dante supera le catene? Anche lì abbiamo l'intervento dell'amico, nel senso che è il punto di riferimento per Dante, dichiaratamente, la figura di Virgilio. All'inizio del secondo canto, Dante, dopo avere accolto l'invito a seguire Virgilio nell'oltreregno, si ingricca, anche lui, dice, mamma mia, ma io con che possibilità posso affrontare un sentiero di questo tipo? Non sono Enea, non sono Paolo, quelli erano stati chiamati a questo cammino, era stato affidato loro un compito, quello lì, di diffondare Roma, quell'altro, di dare corpo alla cristianità, ma io, ma io chi sono? E Virgilio gli dice, ascolta, sai come si chiama questo? Si chiama essere pusillanimi. La terapia è questa, renditi conto che mezzo cielo si è messo in movimento per venire a liberarti, perché Maria si è rivolta a Lucia, Lucia si è rivolta a Beatrice, Beatrice è scesa all'inferno da me per dire di venirti a prendere. sapere di quanta cura c'è nel mondo, nei tuoi confronti, ti deve scongelare da questo ripiegamento su di te, il coraggio di affrontare il cammino. Il coraggio di affrontare il cammino, qui troviamo la parola coraggio e nella parola coraggio c'è la parola cuore, questo è importante, non è solamente forse l'atto di eroismo più importante, è avere coraggio tenendo a mente il cuore. Qui, a proposito di catene, a proposito di legami, qui c'è un uomo invece che si incatena, si incatena e non vuole sciogliere i nodi, è Ulisse. Ulisse che sì, è conosciuto, ma qui abbiamo una prospettiva diversa nell'incontrare Odisseo. Qualche lettore mi ha detto che questo è il capitolo che la commento di meno, ma io invece rivendico questa chiave di lettura, cioè sostanzialmente mi chiedo, ma insomma Odisseo che è il poliutropos, quello che trova sempre il modo di cavarsela, quello che si gira in molti modi, da molte parti per trovare la via d'uscita, noi all'inizio dell'Odissea, cioè quando si comincia a parlare di lui, lo troviamo in scena all'inizio del quinto catto, lo troviamo bloccato, bloccato nell'isola di Ogigia da più anni e non si smuove e ogni mattina si ripete questa scena, la ninfa, Calypso, meravigliosa, bellissima, che ha passato con lui la notte, ha fatto l'amore e al mattino lo invita a mangiare il Nettere degli Dei, l'Ambrosia per renderlo immortale e lui regolarmente declina l'invito, dice no e se ne va sulla spiaggia, sugli scogli, a guardare le profondità del mare, sognando Itaca, la moglie, il padre, il figlio e mi chiedo, ma per sei anni questo avviene, ma perché Ulisse, colui che trova sempre il modo, stavolta non trova il modo e mi dico, forse è l'immagine di un uomo che ha bisogno di stare nella crisi, di stare nell'immobilità per trovare le radici della sua umanità. Ma che cos'è che vuole Odissio in verità? Perché lui fino a quel momento ha pensato di viaggiare per la fama, no? Quello che ha gridato a Polifemo vai conoscere il mio nome, dia a tutti che Ulisse ti ha ceccato. È la fama, la ricerca della fama l'ha messa nei guani. A questo punto Odissio ha la possibilità di chiedersi va bene, ma che cosa davvero mi sta a cuore? E quegli anni sono il suo laboratorio interiore. Ha bisogno di stargli fermo per scoprire, scoprirà che quello che gli sta veramente a cuore sono le sue relazioni. Quindi una vita da immortale nell'isola di Ogigia non sa cosa farsene, sarebbe una non vita, sono giornate fotocopia. Quanto questo ha da dire a tempi come i nostri dove possiamo allungare sconsideratamente la vita in giornate fotocopia avendo perso le relazioni che ci nutrono, ciò che davvero ci rende umani. Quella è un'immagine dell'inferno, è un'immagine di un inferno, non l'immagine della vita eterna. Allora, ecco, questo è uno spunto che metto lì, anche questo sul tema del camminare verso la gioia. Ciò che ci rende vitali sono le nostre relazioni fondamentali. Eh sì. se non le coltiviamo noi moriamo. Perché tutte queste storie mettono in gioco una sola parola, la relazione. E queste storie sono storie a cui noi possiamo fare riferimento e sono straordinarie. Perché c'è sempre qualcosa, una storia che è legata ad un altro, disse o legato anche al personaggio che appartiene a una generazione perduta, Lost Generation. Ma perché far entrare questa generazione perduta nel sentiero della gioia? Riuscirà a trovarla questa parola? La generazione perduta. Il grande Gatsby che è questo romanzo straordinario appunto, sì, che racconta di un sogno americano che comincia a sbriciolarsi sotto i colpi della realtà di fatto. Quindi il confronto tra un ideale fortissimo e una realtà che non corrisponde. Questa è l'immagine di Gatsby, questo personaggio che è così misterioso, no? Fitzgerald non dice mai chiaramente qual è il passato di quest'uomo. Racconta di tante ipotesi per la bocca dei vari personaggi che lo incontrano ma non si capisce mai questo qui com'è che è diventato ricco? Questo giovincello ha 30 anni. Com'è che è diventato ricco? È un farabutto? Qualcuno dice addirittura ammazzato qualcuno? era un nazi un uomo di malaffare nella Germania un militare indiscriminatamente violento nella prima guerra mondiale. Cosa ha fatto? Chi è stato? E in realtà noi vediamo di panarsi la figura di un giovane che ha raccolto il suo mondo intorno al il sogno di conquistare la sua la sua bella con cui sono stati insieme un mese prima della guerra e poi è partito per il fronte e quando è tornato è convinto di ritrovare Daisy lì pronta ad aspettare una realtà Daisy si è sposata e non ha nessuna intenzione di lasciare il marito per andare quindi il fortissimo radicatissimo ideale che si scontra con la realtà ecco l'impatto del confronto con la realtà che non corrisponde al suo desiderio manda infrantumi quindi sul tema della gioia dico sembra che noi maturiamo una gioia reale quando l'ideale accetta la trasformazione accetta di fare i conti con i dati di fatto con la realtà e non vuol dire abbandonare l'ideale vuol dire che l'ideale deve arricchirsi del reale e a proposito e se non si arricchisce diventa un'ideologia l'ideologia uccide sempre l'ideologia è quella che trasferla quella cosa che trasforma tutto in una maniera che ben abbiamo conosciuto dalla storia e che ai noi e in maniera cocciuta tendiamo sempre a ripetere però lei chiude questo suo libro riportandoci all'introduzione dopo una serata dove lei aveva parlato di Chesterton uomo vivo alcuni dei presenti lo avvicinano chiedendoli chiedendo se ancora oggi si può parlare di gioia e la gioia lei l'abbina al verbo osare ecco il verbo osare e per osare la gioia prende le parole di Chesterton da uomo vivo sì mi sembrava una degna conclusione dell'itinerario perché in uomo vivo Chesterton mette in scena metaforicamente un uomo di fede quindi racconta in questo libro in qualche modo anche la sua fede mette in gioco il vivente come dire Innocent Smith è il protagonista del romanzo ed è quest'uomo incontenibile un omone bizzarro parla a se stesso non lo capiscono fa delle cose strane è un uomo estremamente vivo che rende vivi coloro che incontra e rispetto al quale ci si schiera o si sta si rimane affascinato che si dà credito oppure lo si sottopone a processo e lo si vuole condannare stare vicenda di Gesù di Napere e quindi la conclusione del percorso è questa di un uomo fanatico della gioia di vivere così viene definito nel romanzo Innocent Smith che mette alla prova il pessimismo degli uomini che c'è attorno a un certo punto punto una pistola verso un professorone universitario che teorizza il pessimismo della vita il fatto che la vita non è affidabile allora questo gli punta la pistola e quell'altro scappa e si aggrappa a un cornicione perché mostra in questo modo di avere una gran voglia di vivere una gran paura di morire e quindi di fronte a questo pessimismo che si sbriciola di fronte a una pistola Innocent dice ma vedete siamo tutti alla ricerca di vita tutti siamo alla ricerca della vita il pessimismo radicale è una costruzione mentale bisogna ritornare al corpo a vivere le percezioni del nostro profondo la gioia scaturisce dal profondo dal nostro desiderio di trovare il nostro sentiero sotto il cielo in questo senso occorre osare appunto come Dante deve trovare il suo sentiero attraverso i tre regni dell'Otre Tom che sono l'immagine del suo stesso cuore della sua umanità Dante deve percorrere i sentieri del suo cuore per tornare a rivedere le stelle questo è il percorso in cui siamo tutti impegnati nella vita e che rende la nostra vita tanto bella e avventurosa vedo qui una sottolineatura che desidero condividere a proposito di Chesterton l'uomo è più se stesso è più simile all'uomo quando in lui la gioia è un elemento essenziale e il dolore una fase di passaggio ma in tutti questi passaggi che abbiamo ascoltato che i nostri ascoltatori potranno leggere in questo libro un sentiero per la gioia di Paola Aliada c'è un filo rosso che lega tutti questi sentieri ed è il filo rosso che tracciano due persone che tanta gioia lei hanno dato Chiara e Francesco Chiara e Francesco sono due figure importanti Chiara e Francesco sono anche due persone dei tempi nostri che mi hanno tanto aiutato nel mio cammino personale ma volutamente sono un richiamo a Chiara e Francesco d'Assisi perché sono un uomo una donna che hanno osato affrontare il loro sentiero per radicarsi nella gioia sappiamo tutti attraverso quali travagli hanno affrontato il loro sentiero in tempi inquieti come erano i loro in tempi di crisi come erano i loro e quindi li vedo anche come l'immagine di una speranza che ci vuole accompagnare sostenere ci vuole spingere a fare i conti sul serio con la serietà straordinaria bellezza e drammaticità della vita lei ha il libro portata di mano per caso Paola lo apre a pagina 57 e vorrei condividere con i nostri ascoltatori questo questo testo di una scrittrice di una poetessa che abbiamo raccontato diverse volte mi fa piacere ascoltare far ascoltare le sue parole prego le reggo grazie signore tu lo senti che io non ho voce più per ridire il tuo canto segreto signore tu lo vedi che io non ho occhi più per i tuoi cieli per le nuvole tue consolatrici signore per tutto il mio pianto ridammi una stila di te che io riviva perché tu sai signore che in un tempo lontano anch'io tenne nel cuore tutto un lago un gran lago specchio di te ma tutta l'acqua mi fu bevuta oh dio e ora dentro il cuore ho una caverna vuota cieca di te signore per tutto il mio pianto ridammi una stila di te che io riviva un sentiero per la gioia il libro che abbiamo raccontato insieme con l'autore Paolo Aliata libro pubblicato dalla casa editrice in dialogo ma prima di salutarci Paolo Aliata qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni eh sto passeggiando dentro la valle dell'eden di Steinbeck negli ultimi nell'ultimo anno non ho incontrato un libro che mi abbia catturato così lo trovo io Steinbeck avevo letto poco ho letto solo uomini e topi e i nomadi e e mi mi attirava molto il suo stile la sua scrittura e trovo questo romanzo di una di una straordinaria bellezza e profondità poi leggerò furore perché sto scoprendo che Steinbeck mi piace proprio tanto è un romanzo profetico questo profetico sì sì la valle dell'eden sapienziale sì 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 bello penso che l'anno prossimo una delle serate di letteratura mensili che facciamo e da cui ho raccolto e che ho raccolto in questo libro una di queste serate le dedicherò alla valle dell'eden vorrei fare un percorso sul sul cammino dell'uomo dalla nascita all'amore alla disperazione alla morte e quindi attraverso nove romanzi mettere in fila i vari passaggi certamente uno sarà questo ed è un romanzo veramente con cui con cui fare possiamo dire i conti no perché la valle dell'eden ti porta ti porta ti porta molte domande dentro e soprattutto porta veramente una grande un grande dialogo di compassione nel senso proprio etimologico della parola stessa grazie Paolo Aliato grazie per il tempo che ci ha dedicato buona giornata grazie grazie buona giornata buona giornata